Cala la produzione, le esportazioni e inevitabilmente anche la domanda di lavoro, in crescita solamente le ore di cassa integrazione. E l'industria della moda toscana ad essere in affanno, secondo l'istantanea, è scattata da Irpet, un quadro grigio dal quale però spicca la tenuta della provincia di Arezzo, unica isola felice. Nei primi nove mesi, in controtendenza ai dati regionali, infatti, ha messo a segno una crescita dell'export sia di abbigliamento più 7% che di pelletteria più 9% e soprattutto di scarpe più 16%. Un dato importante, un dato che ovviamente registra il dato annuale, l'ultimo trimestre anche su Arezzo ha dato un segnale appunto di rallentamento, ma come era tra l'altro normale, crediamo, insomma, ci aspettavamo che fosse. E quindi è comunque, diciamo, un dato molto positivo che premia le imprese, che ovviamente poi le principali, che hanno sede sul nostro territorio, che hanno avuto, insomma, degli esploi internazionali importantissimi. Ovviamente, uno su tutti, ricordiamo Prada, dove Suarezzo ha fissato la grandissima parte della propria produzione, ma anche appunto nelle province intorno, e che ovviamente può essere direttamente il lab che fa e procede alle esportazioni. Se brilla però l'industria retina della moda, l'export diminuisce complessivamente del 4,4%. Voglio dire, comunque è una, diciamo, fotografia di tenuta, ripeto che solo per l'ultima parte dell'anno, però, sta registrando anche con un aumento di ore di cassa integrazione, che ovviamente significano questa, e confermano questa battuta d'arresto. Le esportazioni sulla base dei dati provvisori pubblicati da Istat si sono attestate nel 2023 ad oltre 10,7 miliardi di euro e il 18,7 del totale regionale, a pesare sulla leggera frenata i metalli preziosi, voce principale dell'export a retino. Come sappiamo l'oro ovviamente è condizionato tantissimo da un valore che ha avuto delle impennate ultimamente fortissime e che quindi ha generato ovviamente delle conseguenti, diciamo, valori di mercato che si sono, hanno ridotto un po' il valore in assoluto. Se guardiamo il mercato della gioielleria invece cresce fortemente, addirittura del 9,6%, quindi un dato importantissimo che quindi fa vedere una industria, una manifattura assolutamente in salute. Possiamo registrare un buon risultato con un aumento del 22% dell'industria, ad esempio, meccanica, quindi delle macchine, della robotica, che è un'altra, diciamo, dei nostri player importanti del nostro territorio. L'agroalimentare cresce in senso positivo, il vino purtroppo, ma come è generalizzato anche rispetto ad altre province, ha una battuta d'arresto con una riduzione di circa l'8%, ovviamente sul dato annuale.